Sabato 23 febbraio alle 18.30 presso il piccolo Eden di Monzano si terrà la presentazione ufficiale della squadra ciclistica Esimplast Spendolini Costruzioni. Saranno presenti i politici locali, gli sponsor, gli organi federali, regionali e provinciali e due famosi personaggi, uno del passato, l'ex campione di ciclismo Franco Bitossi, chiamato Cuore Matto, e l'attuale commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Professionisti, Franco Ballerini. Moderatore della tavola rotonda sarà il giornalista Francesco Fiordomo. Il gruppo, costituito da 11 giovani tra i 17 e i 18 anni, è nato un anno fa per iniziativa della vecchia gloria del ciclismo iesino Mario Bolletta. Le giovani promesse provengono da Iesi, Filottrano, Chiaravalle, ma anche Civitanova e Pesaro. Nel mese di marzo partirà la nuova stagione. Domenica 9, la prima gara ufficiale a Cerbara di Castello. Corrado Lampa è uno dei ragazzi della squadra, quasi 18 anni, di Filottrano. Cosa ti ha spinto a scegliere tra i tanti sport proprio il ciclismo? Beh, questa passione mi è nata quando a 10 anni mio padre mi ha regalato una bicicletta nuova, una mountain bike, quindi io ero molto contento di questa sorpresa che mi aveva fatto. Da lì in poi ho cominciato a fare dei piccoli giri in bici, magari andando a trovare mio zio o mia zia che abitavano due o tre chilometri distanti da casa mia e da qui un po' è nata la mia passione. Poi un giorno mio padre mi ha detto se volevo iniziare a correre e allora con una squadra giovanile di Osimo ho iniziato la mia esperienza della ciclistica. Fino a vincere nel 2007 il titolo regionale? Ho vinto il titolo provinciale e la maglia dei giovani al giro della Toscana Juniors. Quanto ti impegna questa attività ciclistica? Beh, è un impegno non indifferente perché io al mattino frequento la scuola e poi nel pomeriggio mi copre tutte le ore di luce che posso allenarmi, diciamo. E dove vai ad allenarti? Beh, qui nelle zone di Ghesi, magari vado a fare un giro al mare oppure arrivo nei presti di Fabriano, sempre qui intorno comunque. Questa società ricopre anche, possiamo dire, una funzione sociale? Sì, perché noi giovani come me ma come anche altri ragazzi della mia età, tipo il segretario così della società, siamo stati in qualche modo spronati da Mario a aiutare questi ragazzi di 17-18 anni per, insomma, fare in modo che possano avere a disposizione, oltre che il materiale tecnico, anche delle persone che comunque gli stiano vicino, che comunque li accompagnino negli allenamenti, che comunque abbiano anche delle parole di conforto quando non so, una gara va poco bene. Anche per quanto riguarda tutti i vari piccoli problemi della giornata, perché questi ragazzi vanno anche a scuola, quindi devono conciliare la scuola, il ciclismo, gli allenamenti, e quindi cerchiamo di essere anche, non dico degli esempi, perché è un po' troppo grande come parola, però dei punti di riferimento, delle persone comunque più grandi, che comunque sono anche giovani come loro, ecco, diciamo, questo è il discorso. Voi siete tutti volontari, come fate a sostenere le spese che ci saranno? Ecco, le spese ci sono e noi ci sosteniamo con gli sponsor che ci sono vicini, ci hanno aiutato quest'anno e hanno confermato il loro impegno anche per il prossimo anno e questa è un'occasione anche per ringraziarli per l'appoggio che ci hanno dato. Questi sponsor, vogliamo ricordarli, sono principalmente le Simplast di Iesi, la sede a Monzano, opera a Iesi poi a livello internazionale. Abbiamo poi Spendolini Costruzioni, di Marco Spendolini, che è un ex ciclista appassionato che ha voluto restituire un po' a questo mondo del ciclismo quello che ha avuto da giovane quando è stato atleta anche lui. A fianco a questi sponsor che sono i fari, la guida, e ci sostengono fortemente, ci sono poi altri sponsor minori che partecipano e seguono la nostra iniziativa e ci sostengono anche essi. Quindi li vorrei ringraziare tutti, ecco, senza nominarli uno alla volta, ma è un ringraziamento complessivo. Poi un ringraziamento anche a tutti quelli che ci aiutano con la passione e l'attività che svolgono gratuitamente, seguono i ragazzi, si impegnano e mettono a disposizione del tempo libero che potrebbero destinare ad altre attività, ma decidono di farlo aiutando noi e aiutando i ragazzi. Con quali obiettivi nasce questa società? Diciamo che è un periodo che io facevo il territorio sportivo fuori di Iesi e nel frattempo a Iesi era scemato quello che riguarda l'organizzazione di squadre ciclistiche. Abbiamo parlato un po' anche con il sindaco di Iesi, l'assessore, abbiamo ritenuto opportuno dare ancora forza a questo sport che per Iesi è stata una grande tradizione e quindi un anno e mezzo fa sono ripartito creando questa squadra di Juniorers che tra l'altro ci ha dato anche molte soddisfazioni. Il nostro obiettivo futuro è anche quello di poter includere i giovanissimi ai quali servirebbe una pista per poter praticare questo sport e che il sindaco con l'assessore allo sport si stanno dando una mano per poter realizzare questo sogno. Concretamente si tratterebbe di creare una pista ciclabile, una vera e propria pista ciclabile in quale zona? Adesso noi ci ha fatto visionare diverse possibilità a Iesi dove ci sono gli già impianti esistenti. L'ultima sopravvisione che abbiamo fatto è il campo del rugby dove c'è in atto un ampliamento e hanno discusso di poter inserirci in questo contesto perché c'è dei spazi possibili per noi che comprende una pista di circa due chilometri. Parliamo un po' di questa squadra che avete creato un anno fa, una squadra molto giovane che però ha vinto già parecchi titoli. Sì, come per essere il primo anno abbiamo già raccolto abbastanza, tre vittorie, tanti alti piazzamenti, abbiamo vinto il titolo regionale, il titolo provinciale, è una maglia molto importante nel primo anno della categoria nel giro di Toscana e siamo un pochino balzati diciamo l'attenzione nazionale vincendo anche una sciallanza che comprende 60 corse dove veniva acquisito un punteggio noi abbiamo primeggiato in questa classifica e per il futuro ci siamo ancora rafforzati e speriamo di dare ulteriori soddisfazioni sia ai nostri sportivi che a tutto il ciclismo regionale. dal negozio bicishop di Iesi, Lucia Romiti per Vallesina TV